oh buonasera qua sono tu che cosa ne pensi di questa iniziativa che ne è più? tu che cosa ne pensi di questa iniziativa che ne è più? però mi occupo di non aiutare però non ho per grado a dove? a pulizzo e tu che vieni a tutti veniva a dire? e io vi che tutto che ne è più se come se è morto a me ricordi che ne pensi di questa iniziativa? no ma io non sopravano ne ah non sopravano ne mi hai scordato tu? sei tutto me ha没有 sopravano io ando aiutare mi è scordato on tan e torta che fumare o fè no pomono se è lo che tiratesi a Mondiali erano l'erropo si faccio vei a prestare che sono un gihésgato Supponiamo a Marko Cucurnavo non sopra il terreno ma tu avete visto quanto riguarda quante mansporti ma che cosa stanno parlando? stiamo parlando con il mare che è bruciato brava, brava cosa ma cosa sembra che è proprio un guagnone doc cosa brava ragazzina hai capito che è un spartello? è buono ora mi faccio l'opera bella ha fatto l'opera giusta ora mi chiamo invena ora mi chiamo invena ora mi chiamo invena stiamo invena sì ma questa tanti anni fa e sì mi chiamo tu devi vedere che può trovare tu devi ammazzare chi non vuoi ammazzare ma come fare un cancello? ma come fare un cancello? ma non ti senti, non ti senti non ti senti, non ti senti come faccio un cancello? ma come faccio un cancello? gotdo ay come faccio i― ma come? come faccio Grazie a tutti.